C'è una perdita qui, qui c'è la perdita, ci sono i tubi che dal quadretore vanno al riscoltamento interno. Questo è un indicatore 3 vie, una via e la terza via va sostituita sul tubo 2, il resto è già fatto, si è messo in uno originale, qua quello nero, ora proviamo a sostituire questo, il tubo si acquista intero da Toyota. Questo è il raccordo in plastica, in più bucci dura, che andrò a utilizzare per sostituire quello danneggiato. Sono due tubi paralleli, uno si era danneggiato e l'era stato già cambiato, ora a distanza di poco tempo si è danneggiato anche l'altro, infatti c'è una piccola perdita. preferisco cambiarlo prima della completa rottura, come è successo in quello precedente. l'ho presa uno dei cambi al costo di 8 euro, ha le dimensioni esterne di 1,6 cm, quindi 16 mm all'incirca, ed è delle stesse dimensioni di quello originale. ovviamente è leggermente diverso, però mi interessa insomma che le dimensioni siano le stesse e si adatti perfettamente all'originale. ha due ingressi, diciamo, da 1,6 cm e questo è un po' più piccolo per il raccordo dell'altro tubicino. ho già allentato la fascetta, che stava avanti l'ho allentata. alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti